Buon pomeriggio a tutti, buon sabato e benvenuti a Sabato del Convento, l'agenda della settimana. Come dire, una versione estiva del nostro appuntamento pomeridiano del sabato. Do il benvenuto direttamente dall'ufficio Accoglienza Pellegrini a Carlos Sciarra. Ben trovato Carlos. Ben trovata Paola, un saluto a tutti gli amici. Allora, prima di dare i prossimi appuntamenti e eventi, non solo del santuario di San Giovanni Rotondo, ma anche del nostro territorio, rivediamo in questo servizio gli eventi di questa settimana che hanno caratterizzato il convento di Padre Pio. Per il santuario di Padre Pio è stata una settimana ricca di eventi e presenze, quella che si è appena conclusa. Sabato 27 maggio, la fiaccolata mariana è stata preseduta da sua eminenza il cardinale Lazzaro Yuong-Sik, prefetto del di Castero per il Clero e arcivesco o vescove merito di Dayeux. Dopo l'arrivo della processione con la statua della Madonna delle Grazie, il porporato ha letto la sua riflessione, incentrata su Maria e lo Spirito Santo. Maria è presente in tutti i momenti della vita di Gesù, degli Apostoli, della Chiesa Nascente, dall'annunciazione ai piedi di Gesù sotto la croce, alla presenza nel Cenacolo, in stessa dello Spirito. Maria è sempre presente anche nella vita di tutti noi, suoi figli. Il giorno seguente, domenica 28 maggio, solennità di Pentecoste, il cardinal Sik ha preseduto la Santa Messa delle 11.30 nella chiesa di San Pio. Il vento impetuoso riempie la casa, come per fare circolare un'aria nuova. La novità di Cristo, nell'estenza ancora troppo chiuso degli Apostoli, e così si aprono le porte ed essi escono. La chiesa in uscita. Tanto raccomandataci del Santo Padre, non è un modo di essere chiesa o un espediente pastorale. E' l'identità stessa della comunità dei credenti, che esiste per uscire verso il mondo e annunciare il Vangelo, diventando segno e strumento della salvezza, con cui Dio vuole raggiungere ogni persona. Al termine della celebrazione ha espresso la sua gioia nell'aver celebrato la Santa Messa nella chiesa di San Pio, salutando tutti i fedeli e pellegrini nel nome di Papa Francesco. Santo Padre mi ha detto che dovunque vado io, dire al suo nome, salutare tutti voi, per il suo nome del Santo Padre, vi saluto, buona festa di Pentecoste. Ed è stato un fine settimana denso di presenza a San Giovanni Rotondo, soprattutto di pellegrini di lingua straniera, tra cui un gruppo di 30 persone provenienti dall'Equador, accompagnati da padre Juan Montalvo, pellegrini di lingua spagnola dall'America e dalla Corea del Sud, devoti di padre Pio da Singapore, che hanno celebrato la Santa Messa nella cripta di Santa Maria delle Grazie, a cui poi è seguita la Santa Messa di un gruppo dalla Romania. Sabato scorso Ivano Rolli, presidente del CSI Puglia, ha accompagnato in pellegrinaggio un nutrito gruppo di giovani adulti del Centro Sportivo Italiano. Nel saluto di benvenuto ha fatto riferimento a legame che gli unisce al Santo di Pietrelcina. Questa sera noi viviamo proprio questo momento di intimità e di affidamento a San Pio, che poi è un santo pugliese, lo sentiamo chi più chi meno, comunque lo sentiamo tutti vicino, per la storia che ci lega. E quindi affidiamo a lui queste nostre giornate, questo anno associativo e sportivo vissuto. Dopo il saluto del presidente si è svolta una celebrazione a loro dedicata nella chiesa inferiore, presieduta da Don Leo Abbascià, parroco della chiesa di Santo Nofrio di San Giovanni Rotondo, già assistente diocesano del Centro Sportivo Italiano. Anche l'invito che mi ha rivolto il presidente subito ho accettato, perché dentro scorre il sangue verso il Centro Sportivo, quindi abbiamo avuto modo di fare tante iniziative, ma penso che oggi ne avete fatte tante anche voi. Martedì 30 maggio la celebrazione della Santa Messa delle 18 è stata preseduta dal Vescovo di Asti, Monsignor Marco Prastaro, che nella sua omelia ha fatto riferimento al 31 maggio, solennità della visitazione della Beata Vergine Maria d'Elisabetta. Allora nella prestarci a celebrare, e qui a San Giovanni Rotondo è solennità, alla solennità della visitazione, fra le tante cose che possiamo chiedere al Signore, chiediamo questa, di non cadere in queste due tentazioni. Primo, di sentirci indegni, piccoli, inutili di fronte a Lui, perché è Lui che ci rende degni, è Lui che ci rende grandi. Secondo, che non ci permetta mai di chiuderci nei nostri problemi, ma di comprendere che, sì, ognuno di noi porta la sua croce, ma siamo anche chiamati ad aiutarci a portare la croce gli uni degli altri. Allora, sull'esempio di Maria, in questa festa, e in questo luogo, il luogo di Padre Pio, chiediamo proprio questi due doni. questa capacità di fidarci dal Signore, che, come dice al termine del Magnificat, continuamente si ricorda delle promesse che aveva fatto al suo popolo. Mercoledì si è concluso il mese di maggio, ideato e animato dalla pastorale giovanile e vocazionale, nel santuario di Padre Pio, a presiedere la preghiera del Santo Rosario, fra Francesco Di Leo, ministro della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Tema dell'ultimo giorno del mese di maggio, la fretta di Maria, ispirato al messaggio di Papa Francesco per la GMG di Lisbona, a cui 31 giorni della preghiera sono stati dedicati. Maria ci insegna la fretta di alzarsi e di mettersi in cammino. Un cammino che sia motivato, però, dall'urgenza di farsi prossimi secondo la logica del Vangelo, di farsi solidali, di realizzare la dimensione umana della fratellanza, della condivisione, del sostegno reciproco, del servizio. Ecco da dove scaturisce la fretta di Maria. Il termine alzarsi, poi, vuol richiamare proprio il significato di risorgere, di risvegliarsi alla vita. A portare il quadro della Vergine delle Grazie e porgere l'omaggio floreale alla Madonna i dipendenti dei diversi settori del Santuario. Vogliamo chiedere l'intercessione della Vergine Santa e del nostro Padre Pio per ottenere dal Signore la grazia di svolgere con zelo il nostro compito di collaboratori nella missione di far giungere l'annuncio evangelico fino ai confini della Terra. Allora, Carlos, in questo servizio gli eventi che hanno caratterizzato questa settimana il convento di San Giovanni Rotondo di Padre Pio. Partiamo proprio dalla chiusura del mese di maggio. Sì, Paola, lasciami dire che ho visto con piacere che hai parlato della presenza del Vescovo di Asti. Io ho avuto l'opportunità di accompagnarlo ed è stata una bella cosa perché lui era praticamente viene dalla diocese di Torino ed era con altri sette sacerdoti. In otto era il gruppo che 35 anni fa sono stati ordinati tutti insieme quindi una sorta di come facciamo noi le riunioni di classe ecco per loro. E sì, è stata una cosa bella edificante quindi ecco ne approfitto anche per fargli un saluto so che quando possono seguono anche loro Padre Pio TV e quindi sì mi faceva piacere ecco ricordarli proprio in questa occasione perché è edificante anche questa cosa non soltanto i grandi pellegrinaggi noi di solito parliamo sempre dei grandi numeri è successo questo, quello però c'è una realtà anche questa molto molto bella di questo pellegrinaggio personale o comunque per famiglie o per piccoli gruppi. Esatto, piccoli gruppi. Allora ricordiamo quindi si è chiuso il mese di maggio il mercoledì scorso e quindi come dire riprendono un po' le attività riprendono le attività consuete del resto attentissimi i nostri amici telespettatori già hanno visto che abbiamo ripreso con le adorazioni non è più l'adorazione dei giovani quella riprenderà penso nel mese di settembre però come ogni giovedì sera ci sarà l'adorazione riprende a ripresa la preghiera sotto la croce che è un altro appuntamento molto sentito dai nostri telespettatori e quindi ci prepariamo a vivere quest'estate nella maniera anche più semplice possibile ecco se mi permetti tanti cercano sempre l'evento particolare speciale sì quello fa fa sicuramente però è bello vivere anche la ferialità noi delle volte abbiamo anche bisogno di vivere l'ordinario quindi riprendiamo un po' un periodo ordinario l'appuntamento a cui ci prepariamo come ben sai Paola è il perdono del Gargano quindi iniziamo da adesso come abbiamo detto un po' finito il mese di maggio ci concentriamo su questo evento e ieri nel rosario insomma nella scusate il 31 proprio a conclusione del mese di maggio sapete padre Francesco ha dato ufficialmente potremmo dire la notizia che quest'anno ci saranno le reliquie del del beato magistrato quindi che ci che faranno un po' da collante per questo perdono del Gargano ricordiamo le date Carlos del perdono del Gargano ricordiamo da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo quindi dal 30 giugno quindi partiamo il 30 giugno da Monte Sant'Angelo l'idea è di arrivare il primo luglio a San Giovanni Rotondo anche se si arriverà un po' prima mezzanotte tutto dipende sempre Paola dal tempo dalle persone che ci sono però l'idea è questa un programma semplice proprio perché il bello dello stare insieme non è una gara podistica non lo facciamo naturalmente per questi motivi per cui andremo tranquilli per strada scegliendo la via più lunga ma quella più comoda perché tutti possano partecipare allora per informazioni lo avete visto riportato nella nostra agenda c'è già la pagina Facebook ma potete anche rivolgervi all'ufficio accoglienza Pellegrini del quale vedete sovraimpressione tutti i riferimenti a questo proposito giusto 30 secondi vorrei ricordare un paio di appuntamenti del nostro territorio torna Festa Ambiente Sud dal 13 luglio al 5 agosto per informazioni festaambientesud.it l'eco festival delle questioni meridionali e della qualità culturale del territorio che Lega Ambiente dedica ogni anno al Sud Italia si celebra ogni anno dal 2005 in Puglia nei centri storici della città di Vieste Monte Sant'Angelo tappa la foresta Umbra anche a San Giovanni Rotondo mattinata San Marco Illami se altri comuni del Parco Nazionale del Gargano e poi ricordiamo fervono i preparativi per la quarta edizione di Scappi il Festival dei Colori a mattinata dal 23 al 25 luglio 2023 con la Corsa dei Colori proprio il 23 luglio che permetterà a famiglie giovani e bambini di immergersi nella magia dei colori questi appunto alcuni dei nostri appuntamenti garganici bene grazie Carlos per essere stato con noi alla prossima settimana con altri appuntamenti ed eventi legati al nostro territorio grazie grazie a te Paola a voi tutti grazie per l'attenzione e buon sabato del convento a tutti grazie a te Paola